e bentornati sopravvissuti e finalmente dopo un po di pazienza sono uscito a potenziare urk fino al 40 così che fare la sua missione penso sarà bella bella tosta molto tosta direi quindi si facciamo questa qua potenziamento siamo a 40 comunque tirato però che dobbiamo fare speriamo di passarla così sebbene il programma gamma dell'aim sia stato fermato era già in corso un altro esperimento del quale non sapevamo nulla secondo le ricerche che avete recuperato l'aim sta cercando di ricreare il processo di creazione dell'abominio ma su larga scala ecco le coordinate del laboratorio in questione io ho scelto questo team in sperimentazione gamma l'abominio è il loro prototipo meglio riuscito faremo meglio a muoverci vai hulk speriamo sia potente è un 40 volo ritirato ho sprecato non so quante quante come si chiama elementi forza facciamoli chiudere è un 90 volo mi sembrava ero meno all'inizio quindi non lo stavo attaccando abbiamo queste torrette che dov'è la ricerca gamma dovete prendere il treno hyper circuit dell'aim avventure ridge avventure ridge prendiamo il trenino poi mi manca ironman e non riesco a trovare questi ottici boss antisommossa camp è lungo devo fare parecchio salire parecchio di livello con l'alleanza e l'alleanza inumana e poi basta mancano loro due alla fine kamala si fa quando facciamo l'ultima missione di avengers che tra l'altro kamala è leggermente bassa dovrei farla salire un po' Hulk riuscirà a far fuori abominio? non lo so non lo so lo scopriremo ora sono ovunque raggiungete la periferia quegli agenti hanno bisogno del tuo aiuto potrebbero affrontare i mostri gamma porca miseria e Hulk sono solo spaventati puoi farcela aiuto ci serve aiuto niente mostri gamma sono cattivoni dell'aim al mio caso nienteformol se effective non dirò non disconnected sono po tö non nou a e tanto يا Per questo ci chiamano a 20 Vai Hulk, vai Hulk Avengers, sono lo scerifo Elber L'AIM ha diverse macchine che rilasciano gas tossico Possiamo fidarci di una Quella macchina potrebbe essere il nuovo processo di trasformazione gamma dell'AIM Dobbiamo distruggerla La macchina di cui parliamo sta rilasciando gas gamma tossico nell'aria Se non uccide appena in alto Può trasformare le vittime in creature gamma Tosso 29 29 Uno dei nostri alleati della resistenza nelle vicinanze ha bisogno d'aiuto Mi ha fatto male Vai capitano Ah ha funzionato dio usi i suoi poteri ora sei al sicuro cercate un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze vediamo il potere del padre di tutti molto bene c'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze un po' Grazie. 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 Noi, l'ultima cassa. C'è un bunker. C'è un bunker, ragazzi. 130. 120. 60. 60. Sto aumentando. Qua sotto. C'è un deposito dello shield nelle vicinanze. C'è un bunker. C'è un bunker. Bene. Casse, casse. C'è un bunker. C'è un bunker. C'è un bunker. C'è un bunker. No, ma sta finito. Spostatevi ragazzi. Ok usciamo, mi aspettavo più casse sinceramente Meglio che niente alla fine prendiamo l'ultima cassa e andiamo avanti a completare questa missione, intanto si sono ricostruite le statue donate Uh uh uh, si è giunto un'altra Eh ciao C'è un baule con delle risorse speciali nelle vicinanze Avete trovato l'ingresso di uno dei depositi più piccoli dell'AIM Non rilevo forme di vita all'interno E' l'ultima qua Non guardate direttamente L'ingresso è aperto Vediamo se hanno qualcosa di interessante da prendere in prestito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Devo togliermi un peso dal petto Grazie a tutti 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 Suplex Speriamo che lo portino via. Stop! Speriamo che lo portino via. Mi è piaciuta come missione. Tanto, tanto, tanto. Sei stato bravo, Hulk. Più che bravo. Bravo, Hulk. Credo che tu e io non siamo nemici. Se c'è qualcosa da imparare da quello che mi ha fatto Monica è che lei non ti vedeva come un nemico. Per lei eri un dono. Ti prometto di considerarti anch'io come tale e mi dispiace per tutto. Molto bene. Mettiamo tutto quello che abbiamo sbloccato. C'è una maestria. Mischia a distanza, vita intrinseca. Specializzazione e difesa. Beh, direi che è uno da mischia. Mettiamo i bei potenziamenti. Sono da vedere con il deposito. E... E... Ma come scusi. Adesso che l'ho completata? Completa la campagna, la riunione. Tutto qua. Rip. Proprio rip. Niente, va bene ragazzi. L'abbiamo fatta comunque. Iscrivetevi al canale e mettete like. Ciao ragazzi. Semenare assum Hyundai. Ciao ragazzi. Sì. Ciao. Ciao. Ciao.